Nonostante il grave problema provocato dal virus pandemico, la banda della polizia locale di Roma Capitale si è adeguatamente attrezzata e anche da casa riesce nello studio individuale e collettivo di brani musicali da far ascoltare al pubblico non appena le circostanze lo consentiranno. Per questo abbiamo preparato un piccolo omaggio musicale facendovi ascoltare una particolare versione dell'ino nazionale. Ringrazio tutti i componenti della banda, il vice maestro Andrea Monaldi, Giovanni Di Fabio e tutti coloro che continuamente affiancano la banda in questo complicato e gravoso compito, nella speranza che si torni alla normalità nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.